Il treno regionale, 17600, di Trenitalia, proveniente da Rabenna, è diretto a Ferrara, delle ore 7.24, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale, 17607, di Trenitalia, proveniente da Ferrara, è diretto a Rabenna, delle ore 7.25, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni.